I genitori del piccolo Patrick volevano che lui facesse il ballerino, ma in realtà lui voleva fare l'usciere. Questa sera vi parliamo di L'Uomo che usciva la gente. Sigla! Roadhouse! 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 Ah, che bello, L'Uomo che usciva la gente con gentilezza. Esatto, con gentilezza. Con sorriso. Lui mi sembra talentuoso in entrambe le cose. Questa va detta, mi sembra talentuoso in entrambe le cose. Comunque, Quantu sta facendo bordello con il microfono. Mi sentite? Sì, fin troppo. Parlerò poco. No, è tutto lì, era solo mentre lo spostavi. Va bene, buonasera, benvenuti all'episodio numero 197 della 400 Live. Questa sera cominciamo subito sbrigando la burocrazia bella, perché ce n'è già un discreto numero. Quindi cominciamo ringraziando Gio Casu per l'abbonamento di livello 1 per il diciannovesimo mese consecutivo. Daremo un calcio rotante sulla nuca a Timoteo Scenamento un'ora. E grazie mille anche a Andrea BST per l'abbonamento di livello 1. Mi prendo parte del merito. Ok. Grazie mille anche all'Ignazio per l'abbonamento per 23 mesi consecutivi. Porca miseria. Daremo un altro calcio rotante sulla nuca a Timoteo Scenamento un'ora. Questa settimana gli dice così, quindi abbonatevi in massa. Gli va veramente magra questa settimana al povero Timoteo. Io ci sono sempre rimasto male quando ho scoperto che lui comunque lo pronuncia a Timoteo. Cioè, pronuncia la doppia E alla fine come la I. Cioè, quindi è letteralmente come quei rapper che si scrivono un nome normale, ma con la caratteria diversa che però si pronuncia uguale. Mi sono rimasto malissimo. Pensavo fosse francese. Cioè, porca miseria. No, invece no. Sì, è anche tifoso... Ah, che squadra francese. Del Nizza. Non lo so. Lui è un tifoso del Saint-Etienne. Del Saint-Etienne, porca miseria. Ho visto... Pensi in un lavoro di lui che fa i cori del Saint-Etienne. Sì, pensa a te. Va bene. Comunque ringraziamo anche Mazinger Zeta Jones per l'abbonamento di livello 1. È sempre molto bello. E ne approfitto per spiegarvi come funzionano gli abbonamenti. Dovreste già saperlo. A me lo dico ogni volta perché è buona educazione. Funziona così. Ci fate molto felici. Ci fate molto felici le mascotte di Valverde. Tra cui Tulsa Doom. Vai, tra cui il buon Caprotti. E tra cui Paolo Gucci, che non manca mai. Fate un po' meno contento, Timoteciame, che si becca dei grandi schiaffazzi dietro la munca. Che bello. E poi, soprattutto, se vi abbonate al nostro canale Twitch, non vedete la pubblicità durante le dirette. E si raddoppia il valore del vostro voto durante la serata del giovedì, quindi anche stasera, quando alla fine assegneremo il premio Jimmy Bobo al nome più buffo che abbiamo trovato nella scheda IMDB del film del giorno. E detto questo, il duro del Rodaos, portiamo dal poster. Partiamo dal poster perché questa cosa io l'ho scoperta solo la settimana scorsa. Ovvero che nel poster c'è la tagline Dolce non è un tipo solitario. E fin qui, ok. Picchia come un professionista. E qui ne discuteremo. Ama senza domani. Come si ama senza domani? Al di là di quello. Cioè, è quello il finale della tagline. Io pensavo che magari spiegasse ama senza domani e poi picchia come professionista. Invece no, è come se l'argomento principale del film fosse lui che ama senza domani. Ma è veramente strano come venivano marchettizzati i film nell'89. La spiegazione, l'unica spiegazione, era appunto per il fatto che Patrick Zuesi... Questo era il primo film di Patrick Zuesi dopo Dirty Dancing. E quindi si tentava violentemente di promuoverlo anche al pubblico di Dirty Dancing. Vi è piaciuto quando lui solleva a ragazzina e fa il ponte così? Venite a vedere un film in cui strappa la gola di uno a mani nude. Questa era più o meno l'attrattiva. Sento. No. Sento la necessità. Vediamo se... No, secondo me il programma mi respinge e mi impedisce di caricare questa cosa perché ce ne sono infatti. No, niente. Perché me la tengo per dopo. Ok, senti. Ci leviamo subito i griffin di Toro nel senso... Cioè, allora, partiamo da questo. Il film è uscito nell'89, non è esattamente sfondato. Era nella media di quello che ci si aspettava dagli action media di Joel Silver di quell'epoca. Ha fatto il suo, non è stato un flop, però non ha nemmeno sconvolto la vita di nessuno. E' diventato famoso nel corso degli anni per un paio di motivi. Uno è che lo davano in televisione tutti i giorni, su tutti i canali. In Italia non lo so, però leggendo in giro, almeno negli Stati Uniti, era diventato il classico film che ogni giorno tu facevi il giro dei canali e da qualche parte lo stavano facendo. E a gente si fermava e io guardava ogni santo. Ed era un mondo migliore. Era un mondo bellissimo. Non a caso. Il secondo motivo ha avuto una bella spinta di fama anche quando è diventato, praticamente, era il centro di una puntata dei griffin. Io quella puntata non me la ricordo, mi ricordo solo che Peter Griffin comincia a dire il roadhouse ogni due minuti. Perché lui compra il DVD del duro del roadhouse e lo vede. Come se ne fosse bisogno, perché lo davano in tv. Esatto. E decide che il modo per risolvere qualsiasi cosa è prendere a calci rotanti tutto dicendo il roadhouse. E quindi fa anche a tutta la famiglia. La puntata è sostanzialmente quello. Cioè lui che va in giro a dare calci volanti alle cose dicendo il roadhouse. Benvenuto a Valverde. Non so, io se volete vi racconto l'impressione che mi fece quando lo viveva la prima volta. Era un action medio come ne guardavo tantissimi. Quello che lo distingueva era Patrick Suesi nel ruolo di protagonista. Perché il ruolo sembrava scritto letteralmente su misura per lui. Che non aveva per forza il fisico da star d'azione. Era un ballerino, aveva già fatto altri film d'azione. Non era nuovo a queste cose. Però non era quello che ti si presentava e ti sembrava un duro alla stallone. o alla Bruce Willis. E quindi gli avevano costruito il personaggio su misura. E quindi ci avevano inserito la battutina che ogni volta che lo vedono dicono ah ti facevo più grosso, eccetera. In più questa cosa che comincia a raccontare che sei laureato in filosofia. Che è un po' penso come succede in Italia anche oggi. Penso che molti laureati in filosofia in Italia adesso facciano butta fuori. Penso che mi spiace per loro. Purtroppo il mercato del lavoro è veramente infame per certe cose. No, il fatto è che è triste per quelli che invece studiano butta fuori e poi si vedono occupare il lavoro dai filosofi. E quindi sono costretti a fare filosofia loro volo. Esatto. Questi che si laureano in butta fuori poi sono costretti ad insegnare la facoltà di lettere. A scrivere libri di filosofia. Fanno un po' di filosofia online. Ma, santa pazienza. Però insomma, sembrava veramente un ruolo su misura appunto per la sua marca di eroe tutta sua. Cioè, una roba che... Non voglio dire una cosa grezza come un eroe d'azione che piacesse anche alle donne. Però come altro lo si può descrivere. Era carino, che era una cosa strana per un eroe d'azione. Era un bellometto. Non era uno alla Chuck Norris che... Cioè, c'era una certa differenza. Aveva un modo tutto suo di... Comunque, aveva un portamento tutto suo. Cioè, si vede che è un ex ballerino. Cioè, ha tutto un altro modo di comportarsi. Tutto un altro atteggiamento. E così. È meno macio. È meno... È meno prepotente. È più gentile, come dice nel suo discorso. E quindi, sì, era un tocco diverso dal solito. Ma al di là di quello... Bel film che guardavo spessissimo. Però non mi sono mai personalmente impazzito. Poi, a forza di riguardarlo, Cioè, il Duro d'Orodouse è quel tipo di film Che comincia a scovare dettaglini di qua e di là. E ogni volta ne scopri una nuova. E ogni volta c'è... Che ne so. Ogni volta scopri un dettaglio Che ti fa... Che ti manda in tilt. Non so, io partirei dall'inizio Perché a me fa morire già l'inizio Quando la primissima scena... Aspetta, fammi far vedere questa cosa Così chiudiamo il discorso di prima. Ah, giusto. Mi sembra... Mi sembra... Questa è da sempre Una delle mie cose preferite di tutte. Mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Era giusto farla vedere. Lo so, cioè, è effettivamente quel film Che ogni volta che lo metto su Poi, cioè, parte veramente la grandissima. Cioè, secondo me, già dall'inizio Quando ti fa l'inquadratura Che è il classico ingresso dell'eroe. Però in realtà è una tipa sui tacchi a spillo Che si becca la title card così E poi non è nessuno Non la si rivede più Però se becca l'inquadratura Come se fosse la cosa figa dell'universo Però finisce lì Cioè, è veramente È veramente subito delicatissimo Non so come... Fa subito atmosfera Fa subito sentire a casa Fa subito capire a carri a dire Subito art house Esatto D'altra parte la title card è una parola Che nel film credo che non venga mai pronunciata No Infatti no Cioè, l'altra cosa Che mi confonde sempre tantissimo Perché, per esempio Un'altra cosa che qua È il titolo italiano che confonde Cioè, il locale non si chiama Roadhouse Il locale si chiama Double Deuce Sì Roadhouse è nome generico È il nome del tipo di locale Della tipologia di locale Come richiamarlo Non so in Italia Chi lo sapeva nell'89 Che una Roadhouse Sì 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 Cioè, penso che in Italia Nell'89 Roadhouse era solo Roadhouse Blues Dei Doors Sì Che puntualmente viene coverizzata Almeno Almeno ci fanno questo favore Poi è diventata la catena Di fast food Esatto Che fa i ribs Che fa i grandi stecconi E fa così Il resto L'altra cosa Che ho scoperto Tanti Tardi È che Quando Cioè, la tipa entra nel locale E la band che suona nel locale Questo è il titolo Arriva in persona Cioè, quello che poi Ha fondato Tito In Tarantula Di D'Al tramonto all'alba La band di D'Al tramonto all'alba La band che suona in tutti i film Di Rodriguez Però all'epoca Questa era una band diversa Che ho scoperto Si chiamavano Cruzados E basta Però lui era già nel giro Dei film hollywoodiani Ed è bellissimo Sopra questa cosa No, la cosa pazzesca Che lui si esibiva solo nei film Si esibiva solo No Ti posso garantire di no Perché sono andato A vederlo dal vivo A Correggio Ma poi Hai scoperto Che era un film Che ti stavano riprendendo Quando la fine Ti hanno chiesto la liberatoria Allora Posso raccontare questa aneddota A un certo punto Nel locale È entrato anche Ligabue In persona C'è un concerto Di un certo livello Al Correggio Vuoi che Ligabue Non vada a vederlo È entrato anche Ligabue E Tito ha interrotto il concerto Per salutare Ligabue E Tito per fortuna ha detto Non t'azzardare E salire sul palco A merda Tenetelo lontano E va bene Tito Grandissimo Non so Cioè il film Già la premessa È una cosa Che ti cattura subito Per non c'è nemmeno senso La premessa è questa Siamo in un mondo In cui Il buttafuori Sono famosi Come minimo In tutto il territorio nazionale Per cui la prima scena È un futuro post-apocalittico Esatto I buttafuori Sono delle star E c'è gente Che va nei locali Solo per vedere I buttafuori Va nei locali Nella speranza Di attaccare Briga Perché nella prima scena Del film Abbiamo proprio questo momento In cui c'è un tizio Che inizia a far casino E gli dice Dai smettere di far casino E questo qua Dice no Io voglio proprio Battermi con te È tutta la vita Che aspetto questo momento E sono sicuro Di poterti battere È tutta la sera Cioè Tutte le sere Che vengo qua Meno qualcuno Sperando che tu Ti intrometta Invece becco sempre Il tuo secondo In comando Perché Finalmente E c'è il talent scout C'è il talent scout Delle grandi squadre Il talent scout Che finita la rissa Va nei camerini Mentre il nostro Perronista Dalton Si sta ricucciando La ferita Per ingaggiarlo Quindi la scena È questa Immaginatevi Che voi siete In bagno Che vi state sistemando E entra uno E si presenta così C'ha i biglietti Aerei già pronti Per portarti Da lui È cosa che mi ha fatto Impazzire Perché è puramente Cinematografica Come cosa Sì Cioè lui arriva Vabbè Gli entra nel camerino Mentre si sta cambiando A sciamperdere Fa tutti i discorsi Dice Ti conosci Voglio che fanno Vorrei ingaggiarti Per il mio locale Trattano prezzo Prezzo di qua Prezzo di là E lui Cioè Deve far capire Capire che è prontissimo E ci tiene veramente tanto Il film La sceneggiatura Decide di risolvere Questa cosa Dicendo Lui c'ha già i biglietti Aerei con sé Però è È surreale Perché ha fatto i biglietti Aerei prima Prima ancora di chiedergli Anche perché poi Lui già diceva Anche perché poi Lui gli dice Che non prende l'aereo Esatto Perché non è sicuro Cioè il punto è quello Cioè Vado a ingaggiare uno Fatemi già il biglietto Aereo così È così che funzionano I grandi cacciatori di teste Nel mondo Dei buttafuori Esatto Però funziona così Anzi E poi lo porta La tua sorpresa Nanni Dimostra che non sei mai stato Assoldato da un grande cacciatore di teste Di buttafuori No questo Non sei mai stato scoperto Ormai è stato scoperto Io ho scritto Nanni e Didascali Che sono campione europeo Di buttafuori Avete scoperto Il mio bluff Non è vero No è perché La solita cosa Che gli americani ignorano Quello che succede fuori Dal loro territorio Ah ma Perché funziona diversamente Perché là magari C'hanno Noi abbiamo uno stile diverso Ci sono le scuole Ci sono i draft Che ne so Noi buttiamo fuori Con uno stile più europeo Esatto Comunque niente Lui lo assume Per il suo locale Scrauso Nel Missouri Giusto Sparata a caso Non aveva assolutamente Bisogna dirlo Wikipedia Sì Nel Missouri Che sì È come comprare Mbappé per il Frosinone Esatto Però se te lo puoi Se te lo puoi permettere Lui dice di sì Va bene Allora La città di Jasper Nel Missouri Al census Del 2020 Aveva 906 abitanti Cioè È veramente Un buco Però erano tutti Dentro il roadhouse Sì Cioè Quindi Cioè 900 abitanti Di cui 20 finivano All'ospedale Ogni sera Infatti qua dice Che l'ospedale Di Jasper Missouri È uno dei più ricchi Degli Stati Uniti 900 persone Nella città Ma l'ospedale Ha una capienza Di 1800 Perché ci sono anche I tanti turisti Che vengono Che vengono Soltanto per affrontare Da Patrick Suese Per affrontare Dalton Esatto Che bello Quindi insomma Patrick Suese Arriva nel locale Arriva in questo locale Del Missouri Dove tutti lo riconoscono Già sostanzialmente Tutti si danno Di commenti Quello è Dalton Ma hai visto Chi è quello No Non ci posso credere È Dalton È tipo L'inizio di Fuga da New York Ci ho tutti Tu hai visto Ma Iena Pensavo che fossi morto No È grandissimo Pensavo fosse più alto Era l'altro Fantastico Dove comunque Casualmente Cioè Ci suonava Il suo miglior amico Nel locale Ci suona la Jeff Eley Band E Jeff Eley Conosce Jeff Eley Interpreta un personaggio Però si chiama Cody Si si chiama Cody Però sono amici Lo conosce già Quindi c'è È veramente un mondo Un mondo piccolissimo Che bello Che bello Mi viene da partire subito Con l'aneddoto Su Jeff Eley Jeff Eley Se non lo conoscete Vabbè il film L'avete visto Immagino Per lui È un chitarrista Non vedente Che alla critici Di suonare la chitarra Appoggiata Sulle gambe Un po' come dopo Ha fatto Qui si chiamava Quell'altro Che l'aveva copiato Anche se ci vedeva Non era Ben Harper Ben Harper Suonava la chitarra Non lo so Non ho idea Potrei dire Potrei dire una cazzata Perché a me Ben Harper Non mi piaceva Io ho ascolto Però Jeff Eley Suonava la chitarra Appoggiata sulle gambe Che gli permetteva Di usare il pollice Anche con l'altra mano E quindi faceva Un sacco di cose Molto più virtuose E L'aneddoto è che io Ho l'autografo Di Jeff Eley Magari E voi vi farete Una domanda Ma come Non ci vede Ti sei fatto firmare L'autografo Posso confessare Che non ero sicuro Di volerlo fare Però Jeff Eley Ha suonato a Carpi Tutti i costi Ha suonato Alla festa Dell'unità di Carpi Anche lì poi È arrivato Ligabue No Ligabue Per fortuna È arrivato Perché avrebbe Sforato di provincia E non ci va bene E ne ha proibito Sua gente di custodia Non glielo lascia fare La scena è che C'eravamo io E mio cugino E è finito Il concerto Andiamo a chiedergli L'autografo Che cazzo dici Non ci vede Però vediamo Che si forma la calca A chiedergli l'autografo Vediamo che lui Effettivamente Sta uscendo a firmare Se firma Andiamo Andiamo Gli do il cd No Gli do il biglietto Del concerto Lui lo prende in mano Prende il pennarello E poi fa Fine Lo ridacce Stupendo Bellissimo Bellissimo E' un autografo In braille Esatto Grandissimo ricordo Grandissimo Quindi lui Arriva lì Fa il suo bel discorso Che è rimasto leggendario E gli spiega Le regole Dei buttafuori Siate molto gentili Siate educati Me ne andate solo Quando ve lo dico io Altra cosa Non lo ricordo Tanto Questa cosa Cioè Rivedere questo film In inglese Mi ha fatto scoprire Per la prima volta Questa grande differenza Filosofica Tra il bouncer Cioè Il buttafuori classico Esatto Il cooler Che invece è quello Che ricontro E che ha anche Le soft skills Per evitare Per saper Descalare Le situazioni Ma infatti Io volevo chiedere In italiano Come hanno reso Questa differenza Se l'hanno resa Non me lo ricordo Non me lo ricordo Se qualcuno Che ci sta seguendo Si è ripassato Il film In italiano Fatecelo sapere Comunque Questa è una bella Immagine Dal discorso Lui si riso Tra l'altro Cioè fa questa cosa Stronza Che arriva E comincia A licenziare Della gente La prima cosa Però non ha torto No non ha torto Però porca miseria È un po' Un classico Che modi sono Cioè Non è Non è il buon esempio Di essere gentili Con lui non si scherza E corporate mentality Fa entrare Il nuovo responsabile La prima cosa Che fa È licenziare qualcuno Che è poi L'equivalente Di pisciare Il territorio Poi cosa succede Queste si incazzano E poi tornano indietro Vogliono manare Però vabbè Questo fa parte Del film Per dargli una scusa Per fare bordello E far scoppiare Delle risse Per cui A questo punto Succede Succede che il film Se la prende Molto comoda Che è sempre L'altra cosa Quando ho notato Che il film Aveva un susseguito Di culto L'ho cominciato A guardarlo Sempre più spesso Però ogni volta Io mi chiedo Come mai Nel senso È un film Che dopo questo inizio A bomba Poi rallenta Se la prende Davvero Comodissima E arriva Una durata Di un'ora Cinquanta Fa Sì E quindi Cioè rispetto A quello Che era il film D'azione Medio Di una volta Se la prende Molto più rilassata Sì C'ha forse Questa cosa Di infilare Sempre al momento giusto Quando non succede Niente Per un po' Comunque ti infila Almeno una scena Un momento Che è a suo modo Memorabile Per un buon motivo Oppure no Però se la prende Molto comoda E per un po' Cioè sostanzialmente Cominciamo a vedere La vita di lui Come butta fuori Di questo locale Che gli migliora La situazione E Fa incazzare Il cattivo Perché gli rovina I traffici Però la cosa Monta su Con una certa calma Io sono sorpreso Pensato per essere Una serie Esatto Stavo per dire La stessa cosa Cioè sono sorpreso Che oggi Abbiano fatto il remake Che sia un altro film E non una serie Nel senso che ha Il respiro Di una roba Che puoi mettere Anche su più stagioni Cioè questo comunque Alla fine Il momento In cui lui Trasforma Il double deuce Da lo calaccio di merda Locale accettabile È un training monte Le robe in cui Rallenta Sono altre Una roba del genere La puoi spalmare Su 10-20 episodi E far vedere Tutta la crescita Del locale Poi chiaro Nell'89 Non era assolutamente Nella prospettiva Però è curioso Il fatto che adesso Abbiano ripescato Comunque il marchio E abbiamo deciso Di farne un altro film Invece che Una roba Alla Cobra Kai Ma poi perché L'hanno ripescato Voi lo sapete? Ma Era una cosa Che girava già da tempo Erano Era una vita Che volevano rifarlo Cioè Non stiamo parlando Dei ghostbusters Cioè Una roba Così scolpita Nell'immaginario collettivo Che Cazzo raga Questa è una miniera d'oro Il duro del roadhouse Sì È uno di quei film Che Ha avuto successo Veramente Quando hanno cominciato A darlo In televisione Tutti i giorni Uno si è affezionato Perché il tipo di roba Che fai zapping La vedi Ti fermi Ti guardi quello Sì Però Sì Tutto lì Eppure ci hanno provato Per degli anni Comunque Io qua volevo arrivare A quella che è La mia scena preferita In assoluto Di tutto il film Ovvero Il momento In cui si scatena La prima rissa Al double deuce Quando c'è lui Che si scatena Con una barzelletta Sostanzialmente Con questi personaggi qua È una scena bellissima Ti vedi che anche loro Hanno studiato filosofia Che ora lo sa Chiaramente Ho studiato filosofia Allora Sostanzialmente Ci sono questi due personaggi Molto Molto allegri A un tavolo E nel tavolino Di fronte a loro Sono questi altri due personaggi Allora Io qua Com'è il meme dei giovani Guardami come Spero che tu possa Trovare qualcuno Che ti guarda Come si guardano Questi due Andrei avanti così All'infinito Solo ad alternare Tra loro due Però insomma Questo qua Che è al tavolo Con la bionda Praticamente Offre Dice Per 20 dollari Vi faccio Bacciare le tette Della tipa Allora il tipo Si mette Il tavolino E attacca così E qui sono ancora tutti contenti E qui è costruito a barzelletta Sì E qua c'è Esatto È costruito a barzelletta Ma proprio trucida Che non c'entra niente Con il resto dei film Che ha visto fino a quel momento E c'è la gag In cui lui A forza di palpare Quell'altro dice Ok sì Però Cioè Baccia le tette E dammi sti 20 dollari E lui fa No non posso Perché Perché non ce li ho 20 dollari Quindi lui Si scopre Lui aveva veramente studiato Perché è un giorno Però è così Che scatta la rissa Cioè In un film In cui Patrick Swayze Ha questa faccia Dall'inizio alla fine Sì sì No lui chiaramente Vive in un mondo Che gli è inferiore Sì Questo sì Cioè Lo infilano in un posto Dove gli altri Si comportano Come se fosse Un film di Alvaro Vitali Cioè Stavo pensando proprio Sembra John Wick Nel mondo delle comiche Sì Esatto Lui non batte ciglio Comunque lo dice Vabbè Io ho a che fare Questa roba qua Sono un professionista Io risolvo Quello che c'è da risolvere Lo sfruttamento Della prostituzione Non è un mio problema Io devo solo assicurarmi Che non faccio Un casino nel bar Esatto Questo sì E poi scatta La mega rissa Dove Per confermare Il tono Della situazione A un certo punto Inquadra anche Questo tizio Lui è A un reato In filosofia E c'è proprio La classica gag Del regista Che ha detto Datemi quello lì Che ha una fazza buffa E poi tirategli Una bottiglia In testa Così fa una fazza Ancora più buffa Mentre viene Ma sullo sfondo C'è un pirata? Sì Sullo sfondo C'è un pirata L'ho noto adesso Bene Ne sono sollevato Perché non si vede Il pappagallo Sulla spalla Da questa inquadratura Cioè Sono due momenti Che sembra Di aver fatto Zapping Senza volere Il tipo Che ride E batte la bottiglia Sul tavolo Perché non ho fatto In tempo A fare la gif Ma È un momento Altissimo Anche perché Lui ha Due reaction shot Identici Sì Nel senso che Deve fare Quella faccia E sbattere la bottiglia Sul tavolo Ma li interpreta Tutte e due Comunque In un modo Un po' diverso Sì Cioè È la classica Persona Che la metti lì Perché ha La fazza buffa Poi gli tira Una bottiglia In testa Lui tira fuori La lingua Si lascia andare E la scena È portata a casa E poi Ah ma Poi il tono Del filo Decidi dopo In montaggio Che ne so È una cosa Veramente assurda E finché Siamo al bar Ci sono un altro Un altro paio Di personaggi Di cui voglio parlare Uno è questo Che è uno Dei buttafuori Ora magari Vi chiedete perché Il punto è Ho visto gli extra Del blu ray E c'è un'intervista A questo tizio qua Che spiega Che lui era davvero Un buttafuori E l'hanno preso Perché a provino Ha detto Io sono davvero Un buttafuori Quindi sono utile Per la sceneggiatura Tra l'età Che sostiene Che una delle battute Del film Sia stata effettivamente Rubata a lui E quella dove dice Siate gentili Finché non è il momento Di non essere gentili C'è una cosa Che lui diceva sempre E si vanta Questa cosa L'altra cosa Di cui si vanta È che Quando scatta La rissa Lui è andato Da regista Dire se scatta Una rissa Nel locale Io come buttafuori Se sono piazzato Dietro al bancone Quello che faccio È che io Scavalco il bancone Proprio Alla cowboy E mi butto A fermare tutti E si vantava Ma lui lo sapeva Che è una rissa finta Quella del film Sì Comunque lui Si vanta Si vanta Di aver fatto Questa mossa Di aver scavalcato Il bancone Agilmente E che tutti Quattro i titolatori E' incredibile Non ti faceva così agile Il problema È che Io non ricordavo La scena Negli extra De Blu-ray Lo intervistano Poi devo far vedere Quella scena lì E quella scena Non c'è Cioè nel senso Quella scena È letteralmente Oh mi si è bloccato tutto No Si è effettivamente bloccato Si è effettivamente Ma l'ha detto Prima di bloccarsi È incredibile Wow È pazzesco Il potere Cioè lui ha visto Tipo un paio di secondi Nel futuro Wow Il problema è che Si è bloccato A menta di un concetto Quindi non è che possiamo Chiuderlo noi Eh vabbè Andiamo avanti Che hai fatto tu Questo weekend? Questo weekend Ma sta arrivando Il prossimo weekend Ormai questo weekend Sono tipo Quattro giorni fa Una vita E ho fatto Non ho fatto Un cazzo Che è un po' Quello che bisogna fare Nei weekend Per santificare le feste No? Nani ci avvisa Che sta Riavviando il computer Quindi Ah ok Effettivamente L'uotto suggerisce Di raccontare una barzelletta Tu hai una barzelletta? Allora No Purtroppo non sono mai Stato in grado Di raccontare Le barzellette Ho rivisto La scena Di C'era un cinese In coma In cui Carlo Verdone Racconta La barzelletta Del cinese In coma E ho proprio pensato Caspita Com'è invecchiata bene Se vuoi Sono finito Su battutedivertenti Punto Altervista Punto org È una pagina Che si dice Barzellette Squalle De divertenti E freddure Cosa fanno Due squali In una gara Vengono Squalificati Wow Per quale motivo Secondo voi I cani Hanno paura Delle luci Perché abbagliano Ti prego Piuttosto Leggi l'elenco Del telefono Nuovo modello Di televisione Lanciato aggressivamente Sul mercato Si contano Cinque feriti E due morti Posso Posso andare avanti Non so adesso Quanto tempo Ci metta Il computer Di Nani A riavviarsi Posso cercare Anche un'altra pagina Figurati Cioè Al femminile Ci propone Delle simpatiche Freddure Per esempio Ho dovuto Lavare il caffè Perché era macchiato O se preferisci Cosa sono Il cubo Il cilindro Per uno studente Ignorante I solidi Ignoti Ok Spero che Nanni Torni per te Secondo te Per chi le fanno Queste pagine A parte per le live Twitch In una situazione Di estrema emergenza Secondo me è quello Aspettare il ritorno Di Nanni Cobretti Ma Cioè Chi cazzo Usufruisce Di questo servizio Allora Tu immagina Che sei tipo Fuori a cena Con gli amici E avete Venuto tutti Un bicchierino Di troppo E siete tutti Molto alle grotti E uno dice Tipo una battuta Squallidissima E quindi Il discorso Cade su quello A quel punto Tutti cercano Su google Battute squallide Che non fanno ridere E si fa a gara Alla battuta Che fa meno ridere Per cui secondo me Il contesto è quello È tornato Nanni È tornato ma Non lo sentiamo Ma è nella posizione Squallida Aspetta che lo metti In una posizione giusta Uh che sollievo Visto Mi sentite? Sì Ah ok Perfetto Adesso sarebbe magnifico Se ricominciassi Esattamente Da dove hai lasciato E finissi la frase Non ho la più pallida Ed è di dove Mi era interrotto Stavo facendo vedere Il buttafuori Che scavalcava Il bancone Giusto Ok La gag L'ho provato Eccolo La gag È che la scena In cui scavalca Il bancone È questa Basta È inquadrata In primissimo piano Per cui non si vede Una sega Però lui Si è vantato Di questa cosa Fine della gag Tardiva Va bene Vado avanti Con gli altri personaggi Di cui Che volevo citare Perché un altro Un altro importante È questo Questo nel caso Che non lo conosciate È John Do Quello della band Punk Di X Ma dai Con questo tizio a destra Ma non ci credo È esattamente lui È molto più sexy Negli X Che nel Rodale Questo va detto Questo in effetti Sì Santa pazienza Altri personaggi Lei Ho scoperto Che è una stuntman Famosa Quale delle tre Lei Quella è in mezzo Ho scelto la foto In cui è in mezzo Le sue amiche Perché piacciono Le pettinature Anni 80 Quella che a un certo punto Va da lui E gli dice Ma è quella che si spoglia Sì È quella che fa Lo spogliarello Esatto È quella che a un certo punto Va da lui e gli dice Ti sconvolgeresti Se ti dicessi Che voglio andare A casa mia E scoparti Esatto E lui Sì No No L'ho scoperto Che è una stunt famosa Che non mi aspettavo Ah ecco Non solo è una stunt famosa Ma è anche sposata Con un altro stuntman famoso Che è comparso più volte Nel premio Jimmy Bobo E non so se ve lo ricordate Ma lei è la moglie Di Peewee Piemonte Ma veramente Ebbene sì Questa è la tizia più sconvolgente Della serata Era del novembre 2013 Ha vinto No Sì Ha vinto il Jimmy Bobo Nel novembre 2013 Per Get Away Moglie del premio Jimmy Bobo Di novembre 2013 Non è mai successo Che scoprissimo La moglie di un ex premio Jimmy Bobo È una cosa incredibile Che bello Che bello E altri personaggi famosi Nel film Questo Questo è Red West Chi è Red West? Red West è Uno dei migliori amici Di Elvis Ebbene sì Quale dei due Era Red West In questa foto? Bella domanda Io dico Quello a destra Ma non sono sicuro E lui era uno dei Cioè Uno proprio Si chiamava Red West Davvero? Ha più palli D'idea Cioè Ah no Ok Cioè Penso che Red Sia il classico soprannome Che dà E tutti quelli Che sono rossi di capelli Almeno in America Dove Si sa che hanno una fantasia No ma Volevo dire Interpreta un personaggio Che si chiama come lui? Ah Interpreta anche un personaggio Che si chiama come lui Questo sì Perché lui È il proprietario Dell'officina di Red Nel film Lui si chiama Red Anche nel film Questa cosa Molto simpatica Lui Era diventato Famoso Ai tempi di Elvis Perché Due mesi Prima che Elvis Morisse Lui era già uscito Un po' dal giro E aveva scritto Uno dei primi libri Che raccontavano Della dipendenza Di Elvis Da droghe varie Eccetera Quindi Era diventata Una cosa abbastanza Scandalosa Però per il resto Sulla sua scheda IMDB C'è scritto Famoso per il duro Del roadhouse Era un praticante Di arte marziale O semplicemente In quella foto Era un accappatoio No faceva anche lui Faceva karate Insieme a Elvis E poi non so Che curriculum Avesse Prima di incontrarlo Se fosse uno Particolarmente bravo O meno Però era uno Che studiava karate Insieme a Elvis No perché Cioè se ci pensi Oggi In un film fatto oggi Prendono un artista Marziale Anche se ha 89 anni Comunque fanno In modo da fargli fare Il pezzo di bravura Perché è un tributo Al grande artista marziale Invece è bellissimo Come nel roadhouse Questo le prende Forse non le prende Neanche A scene in cui Pulisce per terra Sta dietro Alla cassa del negozio E basta E poi gli fanno Esplodere il locale E gli fanno Esplodere l'officina E si arrabbia No non penso che fosse Un campione Di arti marziali Era semplicemente Uno che Studiava con Elvis Forse era Leggermente più portato Di Elvis stesso Mi stai dicendo Che Elvis Non era portato Elvis Aveva altre skills Però sì Cioè Io ogni tanto Quando vedo Casting Del genere Quello che Mi chiedo È che a volte Secondo me I film Assumo Dalla gente Solo per avere Qualcuno Che racconta Degli aneddoti Tra una fine Nell'altra Allora io Io so Che in questo film Mi spaccherò il cazzo Quindi voglio Qualcuno Che mi intrattenga Con degli aneddoti Fighi Esatto Esatto Secondo me Fanno su Questa Mucchiata Di personaggi Per divertirsi Tra una ripresa E l'altra Ma C'è Kit David Anche Che non fa Un cazzo di niente Sta dietro Il bancone In una scena Il nuovo barista Lo siede pochissimo Esatto E poi A metà film Arriva Sam Millett Sostanzialmente La trama Prevede che Insomma Ci sono Incazzamenti Vari Da una parte E dall'altra No aspetta Vogliamo parlare Prima Dell'amorosa Di lui Che mi ero Per ora Con i mangi Lui a un certo punto Lo accoltellano Durante Una delle risse E Incontra Aspetta Ce l'ho Incontra Barbie Dottoressa Inconfondibile Che in effetti Nei titoli di coda È creditata Semplicemente Come doc Sì È vero Sì E Lui ne approfitta Per dire Quella che è una delle frasi Più belle del film Quando Quando lui dice Lei gli chiede Dove ti sei ferito Fai una rissa Fa Hai vinto almeno E lui fa Nessuno vince mai Una rissa Che è una bellissima battuta Barbie Dottoressa Che in questa scena Fa la dottoressa Nella scena successiva Invece Si trasforma in Barbie Tovaglia da picnic Io Ho un bello Scrinciato Tra l'altro Con il camionista Seduto di fianco Con le chiappe di fuori Esatto Che le guarda il culo Lei tra l'altro Non so se fosse Scritto nella scena No no raga Non sono un porco È scritto sul copione E quindi niente Lui intraprende Questa relazione Con Con Barbie picnic E Un'altra scena Che ha fatto morire Che Quando c'era appunto A metà film Lui Chiama Sam Iliott Che va introdotto bene Si anche perché No vai vai Aspettiamo la foto Io purtroppo Ho messo tutto in disordine Eccolo qua Eccolo qua Ho preso proprio Un bello sguardo Da Sam Iliott Sam Iliott Che è l'altro Butta fuori Il famoso Una delle cose Che mi è piaciuta È che quando In una delle prime scene Il tizio Che va a ingaggiare D'oltre Dice Ah tu sei il miglior Butta fuori Del mondo E lui fa No no Io sono il numero due Il numero uno È Wade Garrett Che è Sam Iliott Sam Iliott La prima cosa Che fa Quando Quando va a trovare Dalton E comincia a provarci Qua sua morosa Quindi balla con lei Ma è quella cosa Un po' goliardica Che si fa Tra amici Certo Chi non ha mai Sedotto D'altra parte Lui è il suo mentore E quindi Alo Lius Prima e Noctis Penso che si tratti Di quello Tra l'altro Credo che sia Uno dei tre o quattro Film della sua carriera In cui non ha i baffi Non ha Nel senso C'è una parte Del complesso Una barba corta In effetti Sì Non ha il baffone Che gli sta Comunque gli sta Da Dio È un figo Incredibile No beh sì Lui è assolutamente L'amoroso C'è una cosa Senza senso Qua è la modestia Di Patrick Swayze Che nel cercare Una spalla Va a beccare Uno dei pochi Che gli può rubare La scena Ostentialmente L'unico Che ha davvero Speranza Di fregargli L'amorosa Tra l'altro Domanda su Semeliot C'è mai stato Un momento Della vita Di Semeliot In cui non era Vecchio Non mi risulta 60 anni Che ha 60 anni Sì sì No lui quando è nato Era tipo Baby Airman Era già vecchissimo Allora So di aver visto Un film dove lui Non ha i baffi Ma proprio Completamente Io sono sicuro Penso Frogs Non abbiamo già fatto Frogs non ha i baffi Che abbiamo già fatto Su Sodio Lui non ha i baffi Sì Emeliot Volevo far vedere Anche questa foto Raffinatissima Per far vedere Non abbiamo parlato Dei tocchi raffinati In regia Ovvero questo Guarda che bello Guarda che Neanche Wes Anderson Non lo so Eccezionale Eccezionale E non so Cioè il film Va avanti sostanzialmente Di scena a caso Fino alla fine Cioè per esempio Una cosa che mi ha fatto Impazzire È che La scena più costosa Del film Ma di gran lunga Che è costata proprio Delle milionate Da sola È questa Che non serve a niente Allora Nei tri Quel monster track Che intravedete qua È un modello Che hanno costruito Apposta per il film Solo per fargli Distruggere Delle altre auto A un concessionario Che potrebbe essere Una scena qualunque Di lui che fa dei danni Invece questa roba qua Da sola È costata tipo Sette milioni È una roba senza senso In effetti Nel suo essere Una cozzaglia Di genere senza senso Ha comunque un ritmo Una crescita costante Cioè le robe che succedono Che poi alla fine Sono bullismo Da parte del cattivo Risposta sua Bullismo Risposta E c'è comunque Un'escalation clamorosa Nel senso Si inizia col provocare Le risse al bar Si passa al tentato Omicidio Nel monster track Sul concessionario E alla fine Esplode tutto Sì ma poi Esplodono le cose Tipo Un'altra scena Che mi sono segnato È Questa Cioè Questa è una macchina A cui hanno sparato Cioè non è una macchina A cui hanno tirato Dei barili di benzina Cioè Gli hanno sparato Col cucile È una roba clamorosa Però questo è Joel Silver Immagino Questa è veramente È il tocco suo Cioè Se devono esplodere poche cose Che almeno esplodano Fortissimo Spesso in successione Sì sì Si vede Il tocco Di Joel Va Va bene Allora Intanto ringraziamo Per l'abbonamento Di livello 1 Vogon seduto Grazie mille Assolutamente onorati E ti facciamo ringraziare Puntualmente Le nostre mascotte Tulsa Doom E poi ci tengo Paolo Gucci A sto tu Che bello E Parliamo di Patrick Swayze Parliamo di Allora Cioè parliamo In un modo Lui è Una cosa che dico In giro da un po' di tempo È la cosa più vicina A un eroe di Bollywood Che abbiamo mai avuto In occidente Sa fare tutto È bellissimo Sa ballare Sa cantare C'ha due pezzi suoi C'ha due pezzi suoi Nella colonna sonora Il film Durò un'ora e cinquanta Ma se fosse durato Due ore dieci Perché ci aggiungevano Le scene di lui Che ballava Sulla sua stessa canzone Io non avrei chietato È l'unica cosa Che gli manca Per il suo film Perfetto Recita C'è una directo Scatto Di tre ore E tutto il tempo In più È lui che fa Taichi sulla spiaggia Esatto Esatto L'unica cosa Che non sapeva fare Prima di questo film Era menare Lui non aveva mai fatto Arti marziale Ha dovuto imparare Apposta per questo film Per questo film Dove gli fanno fare Comunque Come appena detto Taichi sulla spiaggia A petto mudo Ora c'è una scena C'è un trivia ridicolo Beh sì Si fa solo così C'è un trivia ridicolo Che ho letto Ovvero che Il film aveva Problemi Con le fans Di Dirty Dancing Che avevano scoperto Dove stanno girando Il film Per cui Andavano a vedere Le riprese In particolare Nelle scene Dove lui faceva Taichi In riva al fiume Pare che abbiano Beccato Delle fans In canoa Come in un cartone Animato Anche lì Le fans in canoa Ma ti ricordi Il cartone animato Dei Beatles Che C'è questa gag Di loro che Schiappano E ci sono milioni Di fan Che li rincorrono In ogni inquadratura Vabbè Io mi immagino La vita di Patrick Wraith Ma in quegli anni Lì Sì Assolutamente Comunque Era uno Dei problemi Tra l'altro Anche a vedere Gli extra Blu-ray Pare che fosse Letteralmente L'unico problema Del film È il classico film Dove è andato Tutto liscio E perfettamente Da inizio alla fine Come capita Raramente Però insomma Quello che Vedete nel film È esattamente Come l'hanno voluto fare Al dettaglio Perché hanno avuto Zero problemi Da inizio alla fine Patrizio esi Però li butta fuori Che se qualcuno Faceva casino Lo rimettevano in rivia Esatto Però erano gentili Butta fuori Gentissimi Patrizio esi Comunque impara Le arti marziali Appositamente Per il film E le impara Da niente Pugnino Che è Benny the Jet Urquidez Campione mondiale Di kickboxing Recordman Già apparso In un paio Di classici Di Jackie Chan Abbiamo una bellissima Foto di quell'uomo Di Benny the Jet Urquidez Che si vanta Tantissimo A raccontare Che per insegnare Le arti marziali Patrizio esi Siccome era un ballerino Gliela insegnava Ritmo di musica E lui imparava Questa era la gag E Lui se la cava Perché comunque In effetti Cioè Avendo le movenze Da ballerino Quando fa roba Tipo Tai Chi Cioè Voglio dire È agile Il giusto Ed è credibile L'unica cosa Che mi fa morire È che non alza La gambetta Non so se Ci avete fatto caso Quando Questo è il massimo Che faccio C'è la scena Che mi fa morire Che nel finale Del combattimento Centrale Del film Il suo Roadhouse Quello che dovrebbe Essere la sua Mossa È questo Un calcio Nel sedere Però al di là Niente da dire Niente da dire Lui fa La sua bella Mossa Dove Strappa la gola Bellissima Che è un momento Incredibile E anche questo Comunque Cioè È vero che Ne parlano Prima Però è un bello Scarto di tono Da Sono gentile E quando meno Comunque lo faccio Con le arti marziali Quindi lo faccio Per disarmarti È un bello Scarto di tono Anche rispetto Al tizio Con la faccia buffa Che si prende Una bocchina Trappare la gola Alla gente A vedere lo scarto Di tono Uno Due Veramente Sembra che Stai facendo Zapping Ragazzi Questo E questo Sono lo stesso Film Dovremmo fare Un gioco Metti due Fotogrammi vicini Ed è Zapping Lo stesso film Esatto Questo non è male Segnatevelo Lo regalo Al progetto E che non è neanche L'unica Cioè Va avanti Continua comunque Ad alternare Con queste scene Dove lui È serissimo Semilliot È serissimo Semilliot A un certo punto Viene ammazzato Fuori quadro Perché non si può Far vedere che Semilliot Non lo sa menare Quindi Perché è come Stephen Singal Sa benissimo L'immagine Come va gestita Per cui Muore fuori quadro E quindi Gli scatta La vendetta Una cosa Che non è Scontatissima È Questa cosa Che Barbie Dottoressa Effettivamente Quando vede Patrick Swayze Che strappa La gola Con l'altro Gli fa brutto E lo vuole mollare Che è una roba Molto moderna Brava Margot Robbie E No non è lei Scusate Brava Kelly Lynch E Sì Vabbè Alla fine Si rimette Mi sempre Comunque All'89 Però c'è C'è quel lungo Mentre Lo vuole mollare Solo perché Lui ha ucciso Un uomo A mani nude E Sono rimasto Un po' così È veramente Sì È un po' Una overreaction Alla fine Alla fine Sì esatto Si sono viste cose Peggiori Poi diciamo Anche il personaggissimo Che mena È questo È Marshall Teague Quello beccato Molto intenso Però in realtà Avrei dovuto fare La giffa animata Di lui Che Che prende La stecca Da biliardo E la pianta Per saltare Sul palco Tipo salto Collata Senza nessun motivo Sì esatto Cioè pensa che figura di merda Se non gli riusciva Esatto Penso che C'era della birra Per terra Che quindi gli scivolava La stecca Tra l'altro In tutto questo Lui ha la stecca In mano Perché Si stava Tutta la scena È costruita In modo che Lui Sbuchi Da un'altra stanza Nel momento in cui Il capo lo chiama No E lui si stava facendo I cazzi suoi Stava giocando A biliardo Era lì Che si faceva Gli affari suoi E aspettando Il momento In cui Dovesse entrare in scena Soltanto per fare brutto Da quanto tempo Era lì Da quanto tempo Stava aspettando Da quanto tempo Sognava di fare Quel numero Con la stecca E poi soprattutto Lui è Il personaggio Che pronuncia La frase I used to fuck People like you In prison Che è così Anche quello Così over the top Rispetto a tutto Il resto del film C'era anche Un'etichetta Punk Credo Svedese O norvegese Che si chiamava People like you E il nome completo Era I used to fuck People like you In prison Poi nel film In realtà Lui dice Guys like you Quindi Il nome dell'etichetta Era anche Un errore Però insomma Magari Chi Chi ama la fantascienza Si ricorderà Di Marshall Teague Perché lui ha fatto Babylon 5 Ah ok Non lo sapevo Faceva Tipo il capo guerriero Della razza barbarica Tipo i Klingon Di Babylon 5 Che però In realtà Non erano veramente Barbar I used to fuck people like you In Babylon 5 In space In space Non so Io sinceramente Trovo che non sia Facilissimo Parare di questo film Perché Comunque È veramente Una collezione Di momenti random E sbalzi di tono Che per miracolo Funzionano Per dire Il fatto Che il combattimento Più importante Non sia alla fine Ma sia a metà film Si Eh si Perché alla fine È commando Alla fine È letteralmente Commando Cioè lui entra da solo In una casa piena di uomini Armati fino ai denti Sarà a tutti Nessuno prende lui E Sconfinge un tizio Con un orso polare Cioè Ne ammazza Una decina Comunque Dopodiché Lei dice Ah va bene Ok Cioè Finché ne ammazzavi uno Ma c'è un problema È un vizio È un hobby È un hobby Ok Capisco che hai Una vera passione Che non era uno schizzo Così Non era una fase Un momento Però sì Cioè Anche alla fine Comunque alterna Tra The Iron Claw È il tizio steso Dall'orso polare Sì Che poi non muore È l'unico che non muore Vabbè Ci manca assurdo Che morisse Per l'orso polare Cioè Già è assurda Questa cosa Io si può Non ci sono Molte più persone All'anno Di quanto pensi Però non Quelli impagliati Non penso Quelli impagliati Però già Il fatto Che la scena Anche lì avrei dovuto Fare la gif Animata La scena È questo orso polare Che sta cadendo Molto lentamente Il tipo che lo vede Si caga addosso Gli fanno il primo piano Proprio con Con il labbro Che trema Così E poi gli spara Spara l'orso impagliato Svuote il caricatore Sull'orso impagliato E alla fine Rimane così È un cazzo Di capolavoro Boh Non so Cioè È un capolavoro Di montaggio Come lo puoi chiamare Cioè Che tutte queste cose Riescano ad essere Nello stesso film E non darti mai Veramente Il colpo di fronte Frusta Ma di riuscire a sembrare Un tutt'uno Che intrattiene Così Cioè Senza far di battere ciglio È eccezionale Perché comunque Alla fine È un gran film Nel senso È un film Girato gran bene Molto più Della media Degli action Degli anni 80 Tra l'altro Cioè è un film Comunque Che c'ha un tocco Delle idee Un modo di gestire La luce Il fatto che sono sempre O quasi sempre In dei locali Al chiuso Però non ti dà mai L'idea di Cioè un film del giro Non ho ancora visto Il remake Non so se abbia Lo stesso Tipo di ambientazione Sia completamente diverso Però io Un film del genere Oggi Me lo immagino Tendenzialmente buio Di quelli In cui Una scena suda Non capisci un cazzo Perché sono tutti Notturni Sono tutti nel locale Invece questo ha Cioè Ha comunque Questa luce Da interno Ma Bella ricca E colorata Quasi anni 70 È È sempre È strapieno Di inquadrature Composte benissimo Cioè è un film Comunque da Fare pausa In un punto a caso E puoi sempre Farci uno screenshot Tenetolo come sfondo Perché è bello Cioè è proprio Un bel film Il regista del film Raudi Harrington Chi è? Vedi Innanzitutto È quello che si chiama Raudi di nome Già Massimo rispetto Allora Raudi Harrington Cioè questo rimane Il suo film Più famoso E Poi insomma Guardavo prima Su IMDB Questo era Il suo secondo film Il primo Era quello di James Pader Su Jack Su Squartatore Che conosco Esatto Perché È passato diverse volte In tv Per quel che mi ricordo Ma Non l'ho mai guardato Dopo il duro Del Roadhouse Ricordo di essere Andato al cinema Fomentatissimo A vedere Il suo nuovo film Che era Un action Con Bruce Willis Che era Impatto imminente Che è quello Dove Bruce Willis Si chiama Tomardi Esatto 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 Che è quello Che è quello che Bruce Willis Che si chiama Tomardi È quello dove lei È Sara Jessica Parker E quindi È vero Che non si riesce più A vedere in un film D'azione E non mi è mai piaciuto Sinceramente È un fatto imminente È uno di quei film Che per un po' Lo riguardare Dicevo Non ci credo Che non mi piaccia Un film di Rowdy Harrington Con Bruce Willis E poi invece Tomardi Con Bruce Willis Che fa Tomardi È Tomardi È tipo Looper Ma con Tomardi Il posto di Joseph Lovano Ora fammi vedere Se ho dimenticato Delle immagini Che ci tenevo Assolutamente A far vedere No mi sembra Che Sono riuscito A farle vedere Tutte Sì Non abbiamo parlato Del cattivo Cattivo Però lui C'è Ben gazzaro A metterlo In cassaforte C'è poco da fare Con un cognome Del genere Sì Ma non so C'è anche lui Lui c'ha quella battuta Che è diventata Famosa in America Perché è una citazione Che fuori dall'America Non si capisce Ovvero il fatto Che a un certo punto Lui si incazza Per far capire Quanto è potente Dice Sto per far aprire Il primo J.C. Penney Del Missouri O una cosa Del genere Ora J.C. Penney Cioè Non Allora Non vorrei Una cazzata Però Se non sbaglio Non è come Dire l'OVS Però siamo lì Cioè E coprire il primo Eurospin Del Molise Che ne so Questo è il cattivo Del film L'uomo che vuole Aprire il primo Eurospin Del Molise Sì perché La cosa bellissima Di Roadhouse È che è tutto Così piccolo Ambientato in una cittadina Con pochissimi abitanti Il ring È questo locale Assolutamente significante E quindi anche il cattivo Che è il classico Stramegaricco Che spadroneggia Su tutto e tutti E in realtà Sta spadroneggiando Su sto cazzo E quindi in realtà Lui non è veramente Guida una macchina Normalissima Sì sì Lui è Un Florido Imprenditore Brianzone Cioè vive in un trilocale Non è niente E poi E poi non c'è La polizia Ma nella maniera Più assoluta Ci dicono Che ce l'ha in pugno Lui C'è talmente in pugno Che non la fa mai vedere Cioè io Pensavo Quando Patrick Swayze Strappava la gola Al cattivo Visto che questa cosa Succedeva a metà film E non era Il catartico Combattimento finale Ci saranno Delle conseguenze Di questa cosa Cioè comunque Non lo Non l'obbligava Il medico A strappare la gola Al suo avversario E invece no Nessuno Cioè la fidanzata Doc Batte ciglio Ma non c'è Assolutamente nessuna Ripercussione No è un morto Così è un martedì sera Qualunque per Dalton Allora l'unica cosa È che C'è a un certo punto C'è questo pezzo Di dialogo Che Se qualcuno Non ci fa caso È più che comprensibile Però lui spiega Che già in passato Aveva strappato La gola a uno Ed è quello Il suo trauma Che l'ha portato A diventare Un butta fuori Anche se non è Molto Sì o smetti Di strappare la gola Alla gente Allora Però cioè lui Quando Lui non c'è Le mezze misure O è gentile Quando Strappa direttamente La gola È fatto così Comunque no C'era tutta la backstory Su sta roba Che lui Lui è andato a letto Con una Che non gli aveva detto Che era sposata E allora lui Ha tirato fuori la pistola Tutta questa cosa Raccontata da Sam Elliot Perché è una Cazzata senza senso Ma raccontata da Sam Elliot E poi C'è Una cazzata Serissima In un film così Potti poti Ho cambiato Per non far vedere Sempre la stessa Ah no Ecco cosa ho dimenticato Per far vedere Avevo dimenticato Di commentare Guardaroba Di Patrick Swayze Perché a un certo punto Lui indossa Questo Questo capo Di abbigliamento Che Io Chiamerei Il Marilyn Secondo me Solo Patrick Swayze Riesce a portare Il Marilyn Con questa Grazia Sì È talmente bello Che ha persino La giusta quantità Di pelo Cioè riesce Contemporaneamente A essere Vivile Villoso Ma depilato È perfetto D'altra parte Due anni Dopo questo film Verrà eletto Uomo più sexy Del mondo Cioè Infatti è questo Che mi fa impazzire The Fit Se io Avessi scoperto Dal dietro le quinte Che era un film Che ha avuto Mille problemi Un regista Che se ne va Un altro Che arriva Casini Script che cambia Di qua e di là Eccetera Ci avrei creduto Se avrebbe Battere il ciglio Sì Cioè Si vede Ha mille anime Diverse Che convivono Per miracoli Invece Porca miseria È voluto Era proprio l'idea Sì Come volevano fare È un capolavoro Eccezionale L'altra cosa Che non viene citata Spesso È che la sceneggiatrice È una È una donna Si chiama Proprio Prima mi si è riavviato Tutto Quindi Ho perso la schermata Si chiama Ilari Enkin Ilari Enkin Che dopo questo Ha avuto Una nomination All'Oscar Per Walk the Dog Di Barry Levinson Non so se ve lo ricordate Non mi ricordo Qual era il titolo italiano Però era quel film Sesso e potere Sesso e potere Porca miseria Sesso e potere Era una black comedy Porca miseria Non era un film serio Ah è quello dove Fanno Per distrarre L'opinione pubblica La Casa Bianca In scena Una finta guerra Esatto 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 Tutto altro genere E lei si è pigliata La nomination All'Oscar Che poi non ha vinto Però Per questo Però cioè Come si fa A pensare A una roba del genere Così equilibrata Nella sua schizofrenia È eccezionale Sì È che veramente Guardi i film E non te ne accorgi Cioè queste cose Capitano E a meno che Non ti concentri Fortissimo Non te ne accorgi Che è uno sbalzo Di tono Perché fila tutto Liscisio Forse questo è anche il trucco Del fatto di tenerlo Un po' Un po' più dilatato Nei tempi Della media Di quel genere di film Però funziona Perché fai un po' Di world building E quindi poi Succedono delle cose Che tu comunque Ti aspetti E consideri Normali E coerenti Con quello che è successo Fin lì Cioè In quel mondo lì Può esistere Il supereroe Buttafuori E anche lo scemo Che batte la bottiglia Sul tavolo E ride perché è un mondo Così di caricature Che bello È bello Non c'è nessun personaggio Credo che non è una caricatura In qualche modo Sì Lo sono tutti Sostanzialmente Cioè Da quello che arriva Con i due biglietti Dell'aereo Non si salva nessuno All'imprenditore locale Che picchia I suoi Sottoposti Per dimostrare Che li ama E per bullizzare I suoi concittadini E appicca incendi E fa saltare edifici Per risolvere a tutti Che quella è la sua città Zio La stai radendo al suolo Tra un po' La tua città Sarà un cumulo di cenere E poi il finale In cui tutti Tutti gli altri Imprenditori Della città Si alleano Per giustiziarlo sommariamente Sì Sì Cioè ormai Lui è sconfitto Però sentono il bisogno Di sparargli in trenta E poi Eh sì Per sfogarsi Puoi fare finta Che non sia successo È la rivoluzione francese È una roba assolutamente mafiosa Sì Anche perché non sono I cittadini In rivolta Sono gli altri imprenditori Sì sì Allora io ho una domanda difficile Se l'imprenditore Che ha Jasper Missuri In pugno È uno che se gli chiedi Qual è il suo Il suo più grande risultato In carriera È Aver convinto JCPenny Ad aprire un branch Nel tuo paese Gli altri imprenditori Secondo voi Che mestiere fanno? Ma uno Il suo Il suo Amici l'ha raggiunto Quando ha fatto sistemare La macchinetta Della Coca-Cola Esatto Che si era inceppata Esatto Uno è quello Che ha comprato L'orso polare Non l'ha ucciso lui L'ha trovato Però Ha comprato L'ha trovato in negozio Quello è il suo più grande achievement È Veramente Un mondo Che meritava Di essere esplorato Sì Ulteriormente Twin Peaks Praticamente Divento Eh C'è tanto Anche in Twin Peaks Infatti c'è una roadhouse Eh sì Con droga Prostituzione Risse Omicidi In effetti Detto questo L'ho illuminata in modo molto più artistico Sì Se non avete altro da far notare Io passerei al sequel Che penso di aver visto solo io qui dentro C'è un sequel C'è un sequel Che è uscito direttamente in un video nel 2006 Commetto con lo stesso identico cast Dal primo all'ultimo Allora Gli hanno chiesto Allora quello che prende la bottiglia in testa C'è State tranquilli Ok No è ancora per terra Allora è andata così Penso per dovere E anche perché Patrick nel 2006 era già in fase calante Hanno chiesto a Patrick se voler riprendere il ruolo Ha detto di no Sono andati per direttissima No a seconda No a terza Ma almeno la dodicesima scelta La dodicesima scelta per Rodaos 2 È un film che non ha nessuno del film precedente Ma nessuno In maniera più assoluta È Jonathan Sheik Che se non sapete chi è Non vi biasimo Lo spiego subito Jonathan Sheik è diventato famoso con The Doom Generation di Greg Arach Ok Che è la primissima persona che immagino Per interpretare Il successore di Patrick Swayze Io sto vedendo adesso Il poster del film E giuro su Dio Che sembra la porn parodi Del film originale È vero È vero Perché Nella grande tradizione dei sequel Che la devono sparare più grossa D'originale Questo inizia No Con una Con i tacchi Che scende dall'auto Dentro il locale Ma con due giamelle Che scendono dall'auto Dentro il locale Qui è dove ho capito subito Questo è un sequel Che vuole davvero Aumentare la posta In gioco Ora Jonathan Sheik diceva Lui non ha una carriera Da eroe d'azione Se vogliamo Questa è l'unica cosa Che lo accomuna Patrick Swayze Il fatto che Prima non fosse famoso Come eroe d'azione E dopo nemmeno Io ho questa teoria Ora il film Ha un cast Comunque spettacolare Al di là di lui Perché c'è Jake Busy Che mette In cassaforte Il ruolo del cattivo Il figlio di Gary E c'è Will Patton Che dovrebbe essere Che dovrebbe essere Il semiglio Della situazione Gli danno la stessa camicia Per qualche motivo Non c'entra una sega Però Io Quello che Il direttore di cast Che ha detto Ci serve uno Che faccia una scena Dove mena Cinque persone E poi muore E va a chiamare Will Patton Sicuramente Qualcosa avesse fumato Lasciamo perdere Allora Il film Tagliando molto breve È del tutto inutile È guardabile Non dà fastidio Però completamente inutile Quello che è successo Mentre lo guardavo C'è un punto Inizia a rendermi conto Che Le scene in cui Si menavano Comunque erano girate bene Non era un malaccio Però prima ho detto Vabbè È Will Patton Che mena Però Si accava È coreografata bene È incredibile Man mano che vanno avanti E scendi scazzottati Mi rendo conto Che sono girate proprio Come si deve O coreografate bene Rendono Sono sempre risse da bar Però come si deve E poi aumentano Di spettacolarità Se arriva all'ultima Che vi giuro L'ultima era bellissima Cioè all'ultima Ci sono scazzottate varie Che succedono contemporaneamente Sono belle 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 Sono andato a controllare I responsabili E c'era veramente La miglior squadra Che si potesse mettere Su Nel 2006 Ovvero Coreografia di J.J. Perry Undisputed 3 Aiutato dall'Arnel Stovall Undisputed 2 E la controfigura I film con Harley Quinn Da sola Sì 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 Cerchiamo un attore Che gli assomigli Per le scene In cui deve dire qualcosa In primo piano E questa è la mia tesi Per cui Di colpa è un film Che sinceramente Vi consiglio Se siete appassionati Di scene di menare Fatte come si deve Incredibilmente Roadhouse 2 È un film che Consiglio solo per quello Ma lo consiglio Comunque vedevo che Il protagonista Di Roadhouse 2 Era in Suitable Flash Che è un film Che abbiamo visto Soltanto noi tre Credo In tutta Italia No No È uscito il pezzo Sui calci Questo vuol dire Che ogni singolo lettore Di 400 calci L'ha visto Ok Prima che uscisse il pezzo Ah no Beh certo No è uno che gira Ogni tanto Il marito buono Il marito Sì Il marito di lei Sì E Così Così Colpo di scena Detto questo Passerei Al momento clou Della serata Ovvero Il premio Jimmy Bobo E per cui Sigla Che mirà Bobo Andrà 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 Wade Kubrick Mentre spieghi Il premio Jimmy Bobo Io lo rimonto Da capo Perché quando è morto Il computer Mi è morto Anche il sondaggio Esatto Il premio Jimmy Bobo Quel premio Che assegniamo Tutte le settimane I giovedì E anche tutti gli anni Con i premi Silvester Era il nome più buffo Che abbiamo trovato Nella lista dei crediti Bla bla In questo caso Abbiamo pescato Sia dall'originale Sia dal remake Ma non dal sequel Se volete fare ricorso Fate pure Noi lo ignoreremo Funziona che tra un po' Vi leggerò i cinque nomi Ciascuno accompagnato Dal numerino E quando Nanni Vi darà il via Voi dovete scrivere In chat Il numerino Corrispondente al nome Che più vi fa ridere E se siete abbonati Il vostro voto Vale doppio Per cui passerei A presentare I cinque candidati Di questa sera Il primo dei quali Attenzione È una serata Un po' così Lui è Il fratello Del vincitore Del premio Jimmy Bobo Giugno 2016 Ah Urca Ebbene sì Lui è Anthony Bagarozzi Fratello Di Dominic Bagarozzi Senti allora Se io penso A un ex collaboratore Di Donald Trump Con chi mi sto confondendo Scaramucci Scaramucci Ecco Ecco perché mi suonava Familiare Gran nome Da Jimmy Bobo Dovremmo fare Il Jimmy Bobo Della politica Jimmy Bobo Craxi Ah a sto punto Ci tocca farlo davvero Dannata linguaccia Con il numero due Invece abbiamo Un uomo che di mestiere Fa il visual effects supervisor Ma poi di fatto Non è che lo faccia Veramente È sempre un po' lì A cazzeggiare Perché è proprio lui Emilien Lazzaron E lui è un po' Già a scuola Con il numero tre Invece è una persona Che è rimasta Valla Nagarfe Vittima dell'autocorrettore Che per qualche motivo Non è scattato E quindi Lei è Marta Rincusiuso Volevano scrivere Rincuso Ma hanno fatto casino Alla tastiera L'autocorrettore Non ha corretto E lei è diventata Marta Rincusiuso Rincusiuso Con il numero quattro Invece abbiamo Una coppia di giovani Si presentano insieme Perché sono giovani E quindi fanno Insomma Sono uno sopra l'altro Con un impermeabile Esatto Sono entrambi stuntman E sono Pete Antico E LJ La vecchia Sono tipo Sanore Reginetta Del ballo E infine Con il numero cinque È una persona Della quale Innanzitutto Mi affascina Il lavoro Perché lei fa La temp music editor E quindi mi chiedo È lei che è temp Cioè fa la music editor Solo per un periodo E poi farà altro Oppure lei edita La musica temporanea Che è un lavoro Sostrantissimo Perché tanto è temporanea Poi la cancellano Comunque è proprio lei Direttamente da Genova Kira Belin E vai Ricapitoliamo quindi Con il numero uno Antoni Bagarozzi Con il numero due Emilien Lazaron Con il numero tre Marta Ringiuso Con il numero quattro Pete Antico E LJ La vecchia E con il numero cinque Kira Belin Si può Si può Votare A partire da Da adesso Hai dei nomi scartati? Sì Abbiamo scartato La povera Brianna Gentilella Che era tra l'altro A tema con la serata Perché lei appunto È gentile Gentilella Siate Gentilella Fino a che Non è il momento Di non essere gentile Poi ho scartato Perché fin troppo italiano Davide Tiraboschi Però mi piaceva Tiraboschi Cioè immagino Proprio questa persona Che strappa interi alberi E li lancia in giro Cioè alla fine È tipo un mostro grosso Si Poi abbiamo scartato Tito L'Arriva Effettivamente Che ci faceva comunque ridere E infine Alessandro Pantanella Noto per le sue Paludi Credo Non lo so Allora Vedo Vedo una gara Molto combattuta Questa sera Ah Quindi se volete Continuare a votare Potete ancora Ribaltare la situazione Sì Sono molto contento Sono i voti Sono molto vicini Ed è tutto ancora Molto indeciso Un po' come le elezioni russe Insomma Comunque mi sembra Che abbiate votato tutti Quindi sto per Chiudere i voti Stop alle votazioni Le votazioni Sono ufficialmente Chiuse E ora Vi racconto Tutto quello che faccio Nei dettagli Dal Ora Ho preso Lo screenshot Wow Ho preso La pastiglina Che non la devo ricordare Adesso vado a caricare L'immagine E Ha vinto Ufficialmente Di poco In una gara Molto combattuta Anthony Bagarozzi Ah Il re dei Bagarozzi Comunque qui c'è del nepotismo È il secondo Bagarozzi Che vince In effetti In effetti Sì Ha vinto un Nepo Baby I Jimmy Bobo Sono un po' presidiati Dalla famiglia Bagarozzi Esatto Un po' come Ben Gazzarra Però Posso dire una cosa Che ci tengo sempre a dire Nel discorso Nel Nepo Baby Posso capire la frustrazione Che Uno diventa famoso Solo perché Un suo parente Era famoso Però alla fine Anche per i Jimmy Bobo Il fatto di essere parenti Di un altro Jimmy Bobo Ti aiuta ad essere Un Jimmy Bobo Meglio Perché tu respiri L'aria dei Jimmy Bobo Costantemente Cresciuto in un ambiente E impari dai migliori Hai a disposizione Un mentore Che ti insegna A essere un Jimmy Bobo Sostanzioso Che altri Purtroppo non hanno Che Insomma È in parte Fortuna È in parte Insomma Che gli devi dire Aveva il migliore A insegnare E quindi È andata così Quindi Congratulazioni A Anthony Scaramucci A Anthony Bagarozzi Per aver vinto Il premio Jimmy Bobo Per il duro Del Roadhouse Non so In quale fosse Dei due Dei tre In realtà Per cui È il momento Di ricordarvi I prossimi appuntamenti Allora L'appuntamento Di cui Tutti vi dovete Ricordare È ovviamente Quello con I premi Silvestre 2024 Che quest'anno Si terranno Dal vivo Di persona In un posto fisico In cui potete Entrarci A Bologna Al cinema Modernissimo Sabato 6 aprile A partire Dalle ore 20 e 30 Tra l'altro Per l'occasione Questa volta Truccheremo Un po' meno I risultati Giusto Giusto Meno del solito Meno del solito Per dare L'illusione Di democrazia A chi Verrà dal vivo Ad assistervi Allora Le date in fila Allora L'altra volta Ho detto Le date in ordine In ordine opposto Secondo me Ho confuso tutti Per cui in realtà Adesso Provo a darle In ordine cronologico Allora In ordine cronologico Lunedì Serata Con la palestra Dei 400 calci Le news Più interessanti Della settimana E l'immancabile Appuntamento Con la rubrica Che cosa ha fatto Già redeletto Questa settimana Immancabile Ormai non riesco A dormire senza Esatto Giovedì prossimo Giovedì prossimo È una data Molto importante Perché Grazie ad alcune Conoscenze Che non vogliamo Svelare Noi abbiamo Un accordo Di esclusiva Per svelarvi In anteprima Le nomination Dei premi Silvestri Se tutto va bene Abbiamo Abbiamo Un informatore Abbiamo Insomma Un accordo Che abbiamo Preso E sapremo In esclusiva In anteprima Esclusiva Le nomination Dei premi Silvestri 2024 Quindi giovedì prossimo Non ci sarà Un film Ma ci sarà Si dice Svelamento Sveleremo Sveleremo Le nomination Dei premi Silvestri 2024 Dal giorno dopo Ovvero Venerdì 29 Che è Pasquetta Che è il venerdì Di Pasqua Anzi Ci saranno I premi Silvestri Li potete votare Saranno sul sito 400calci.com La grande schiacciata Di bottoni I premi Da premere Potrete votare Il Silvestri Sempre andando in ordine Il lunedì seguente È il primo Dopo la Pasqua Dopo la Pasqua Allora c'è la Pasquetta E non facciamo niente Abbiamo già deciso È anche il primo Pasquetta Pasquetta Lunedì primo d'aprile Non facciamo niente Giovedì Ve lo diciamo Un'altra volta Non spoileriamo adesso Però La cosa importante È sabato 6 aprile Cinema modernissimo Di Bologna Premi Silvestri 2024 Ore 20 e 30 Ingresso gratuito A breve Ci daranno Il link A cui potrete Prontare i posti A seguire La premiazione Dei Silvestri 2024 Alle ore 22 e 30 Sempre al cinema modernissimo Di Bologna Introdotto da noi Ci sarà Una proiezione Di Ce l'ho il poster L'ho preparato Di Grosso Guaia China Time E che cosa volete Di più dalla vita Esatto Io mi sono disturbato A prendere il poster italiano Invece Proietteremo Proietterà La Cineteta Perché Sarà Con la Proiezione Di Bologna La versione In lingua originale Come scottotitoli In In Mandarino In mandarino Anche Jack Barton Parla in mandarino Questa è una versione In cui tutti parlano In mandarino E Jack Barton Dice Cazzo Jack Barton Parla in Genove È ancora Più Più Spaisato Del solito Comunque Insomma Premi Silvestri In ingresso Grosso Guaia China Time Invece Sono 6 euro Interi 4 euro E mezzo Ridotti Anche lì Vi daremo Il link Per pronotarvi Il prima Possibile Mi sembra Avrei detto tutto Tranne che Premi Silvestri Avremo una Guest Star Niente a meno che Professor Roy Menarini In persona Siamo assolutamente Onorati E non Vediamo l'ora Di fargli tirare Uno schiaffo A Timoteciane Sarai cartonato Se ti stagliori tu Era uno di voi due Che sapeva Chi è che è il cartonato Di Timoteciane Vi ricordo Così davanti a tutti Di recuperare Andare a recuperarlo Assolutamente Sì sì Facciamo in modo Ci sarà Perché bisogna I'm on it Molto bene Direi che Ho detto tutto Quindi non rimane Che ringraziarvi tantissimo Per averci seguito Ringraziamo Chi ci ha seguito in diretta Ringraziamo Chi ci ha seguito in differita Perché non siamo Indifferenti A differita Ringraziamo Cristiano Liprendi E Dario Cogliati Per la videosigla Ringraziamo Il maestro Ludwig Van Veroven Per la Ternodia Per le vittime di Valverde Ringraziamo Il nano war of steel Per la sigla classica Dei 400 calci E ciao Buonanotte a tutti Ciao Roadhouse